Buongiorno, senta, vorrei vedere quei pacchi lì, ma sono sempre in offerta. Ma certo. Me li potrebbe far vedere per favore? Prego. Questo è un pacco divertente, si chiama pacco Carla. Questo invece è ancora più divertente, si chiama pacco Roberto. Sì. Questo è ancora più divertente, un pacco Massimiliano. Guarda, guarda. Mi piacerebbe quel pacco lì. Bastano questi. Arrivederci, la ringrazio. Arrivederci. Arrivederci. Andiamo. Un sorriso non si compra, si regala. Emozioniamoci per vivere. Campagna promossa dal Laboratorio Multimediale Cassiopea dell'Aias di Pistoia.